Il Governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. L'impegno arriva a metà pomeriggio, a margine della visita a Genova. L'esecutivo si prepara un intervento cospicuo sul caro Bolletta, più preciso durante il question time, il ministro d'Inca. Sono allo studio del Governo misure e modalità di riperimento delle risorse idonee da crescere e all'ammontare degli aiuti concessi, anche al fine di garantire un adeguato sostegno per il secondo trimestre dell'anno. In attesa di capire la portata del provvedimento, la preoccupazione cresce anche tra i primi cittadini che si preparano a spegnere le luci in segno di protesta. Per il sindaco di Conegliano non è il tempo della diplomazia. Si rischia di mettere in difficoltà magari le messe scolastiche, dovendo aumentare i costi delle messe oppure del trasporto scolastico o togliere dei servizi prima necessità sul sociale. Penso che questo non si debba fare, che il Governo centrale debba intervenire immediatamente per venire incontro a questi aumenti. Bollette dell'Ene triplicate, poi ci ritroviamo addirittura che anche il carburante va aumentando, ripeto, 350-400 mila euro di aggravio per un comune come Conegliano non esiste assolutamente. Tutte le ragionerie comunali sono al lavoro e i sindaci stanno arrivando conti da capogiro che incidono su bilanci previsionali già approvati. Dovremmo sicuramente andare a tagliare su quelle che possono essere magari delle spese, che sono delle spese importanti ma magari che dovremmo rimandare, potrà essere le asfaltature piuttosto che interventi legati agli aspetti culturali. Questa è veramente una situazione drammatica ma che purtroppo i comuni come il nostro dovranno far fronte. 200 mila euro il salasso quantificato a Crocetta dove sono tanti gli edifici comunali. Io spero di riuscire a far fronte economizzando come si fa in una famiglia, economizzando un po' di qua e un po' di là, riuscire a far fronte. Spero che questa sia una cosa estemporanea, non sia certo un intervento strutturale, altrimenti dovremmo pensare che ogni anno spendiamo 200 mila euro in più. Spero non possa succedere una cosa così. Poco distante a Pederoba si prevede un esborso di 107 mila euro in più. Nessun taglio immediato assicurano dal comune. Certo è che non si possono fare cose in più, che è quello che ci chiedono i cittadini. Quindi chiediamo assolutamente al governo di intervenire, non solo per bloccare i rincari per le famiglie, ma per bloccare i rincari anche ai comuni che danno servizi alle famiglie. Il tema, dal punto di vista politico, è stato posto dal sindaco di Treviso Conte poche ore fa nel corso di un videocollegamento con il leader della Lega Salvini. Un milione di euro gli aumenti per il comune capoluogo, addirittura 10 se si va all'Ulss2. Solo di calore, ecco, solo di calore per noi sono 6 milioni complessivamente, sono 6 milioni di euro in più all'anno e di elettricità sono 4 milioni e mezzo in più all'anno. Cioè una botta, veramente botta, è difficile da digerire. Per gli ospedali si prevede un piano antidispersione, dice Benazzi, la coperta per tutti è sempre più corta. Se si tira sulla coperta restano fuori i piedi, se copriamo i piedi restano fuori le braccia.